Bella, bella sta terra mia, come a Calabria regione non c'è, Lariu, lariu, lariu le, lariu, lariu le. Ia, ho sconso, ti sento il prodotto? Io? Mi sembra così. Riscavati, ma che? Non lo so. Sentirlo risco è pecorare. Può darsi. Così, così. Perché ne. Che succede? Un Margarociù. No. Perché ne. T'hai portato le ricotte, t'hai portato i formaggi che mi avevi dito, e anche la sala animale che la crema, sufri, ah, mo' che avendo un sofritto, un luogo, cosa succerete? Me l'avete stonato, non me l'ho portato. Tu mi avete detto che avete avuto portato il ricotto. Ma non riguarda nosintenca, ma hai ch rainyacki, a me l'avete stonato, non ci mangiare, devi viaニ' Ruth Luc discomfort, mi ha chontro, mi ha chontro, mi ha chontro, mi ha chontro! che sa che cosa, alla fine se ne sa che cosa, se non c'è un bellissimo peco raro, ma l'affitto, oi peco raro, oi peco raro, e se mi guida va via, come una roccia di veria, la mia tu lo peco raro, non ti giuro, non ti guadiano, oi peco raro, oi peco raro, dove sto peco da non sapere, che sono le porte della mogliera, ma le ragazze se stanno bene alla porta della bandiera, oi peco raro, oi peco raro, facciamo per loro questa sera, facciamo la storlellata Silana, vai! Ma conoscete, sì? Siamo qui in Sila, e quindi per voi, la storlellata Silana, vai con la cantella, e con la chitapolla, le raghi da bolla, le raghi da bolla, le raghi da bolla, velle raghi da bolla, le raghi da bolla, le raghi da bolla, le raghi da bolla, ci Elliot, sì? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.